Evidentemente in casa, visto che siamo ad Amsterdam, non succedeva dal 91, dalla finale con la Stella Rosa di Mihailovic a Bari che un arbitro dello stesso paese arbitrasse una finale, non mi fai sostenere, non vedete, era tu di Olanese? C'ero io, ovviamente, eri lo stadio? Sì, sì, brutta partita con gli ore rigori, con la Stella Rosa di Sinesa Mihailovic Era l'anno successivo all'ultima finale del Benfica 89-90, pensa 1-0, col gol di un olandese Frank Rijkaard vinse il Milan proprio per 1-0 con Rijkaard a segno in quella partita Girano i mulini, gira allo stemma dell'Europa League, in mezzo al campo ci sono i tulipani i due simboli con i colori delle squadre, vanno scelto evidentemente il tulipano che qui in Olanda rappresenta più di qualcosa Diciamo che l'arbitro per la finale è l'unica occasione nella quale non c'è tutta una sestina in questo paese perché questo uomo sarà amato degli altri migliori Invecezione Grazie 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 a tutti